Accoglienza, dialogo e ascolto sono le necessità dei ragazzi che non vanno lasciati soli. Sono le parole di Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia, che si rivolge ai sacerdoti della propria comunità diocesana, chiedendo loro di non lasciare soli gli adolescenti. Sentite. Le strutture ecclesiastiche, soprattutto quelle del centro storico, siano luoghi di aggregazione che facciano crescere una generazione nuova. E' il monito che ha lanciato l'arcivescovo di Foggia Bovino, Monsignor Vincenzo Pelvi, in un messaggio alla città. Apriamo sale, cortili, campetti delle nostre parrocchie, luoghi in cui gli adolescenti avvertono l'urgenza di aprirsi agli altri, di incontrarsi e vivere nuove amicizie, ha detto Pelvi, per cui siamo di fronte a ragazzi angosciati e incapaci di far fronte alla durezza della realtà, perché non aiutati ad affrontare il dolore. Il presule osserva che i giovani crescono nel mito della prestazione, del risultato a tutti i costi e all'ombra dell'onnipotenza. Da qui l'invito ad ascoltare gli adolescenti, che non hanno bisogno di psicofarmaci, ma di accoglienza e dialogo. Ricordando infine che dalle recenti statistiche risulta che il 47% degli adolescenti si dichiara non credente, Monsignor Pelvi evidenzia che vanno ascoltati, non criticati quando non ritengono la Chiesa significativa per la propria esistenza. Ripartiamo con un'azione pastorale coraggiosa e sinergica a concluso. Abitiamo il presente dei nostri ragazzi, non il passato o il futuro.